è questa la vita questo mi piace degli esseri umani davanti uccidimi so che lo farai quando ti porterò la bara ti sei proprio arreso non è vero Stefan? dov'è la furia? dov'è lo squartatore? Elia perché sei ancora qui? delle buone maniere fratello dimenticavi il dolce che cosa hai fatto? tu che cosa hai fatto? sai ho imparato a non fidarmi delle tue volgari promesse Klaus faremo a modo mio ora Cole quanto tempo fratello? Finn no Rebecca Rebecca questo per nostra madre siete liberi di andare è una questione di famiglia che cosa hai fatto to like? che cosa le hai fatto è una definedità nel mio caso quindi che cine chiama ценanzo 1996 è la 모두